omicidio di Civitanova arrestato il presunto colpevole grandi manovre per scegliere i candidati marchigiani al Parlamento Pesaro consegna la cittadinanza onoraria a Gianni Letta a Cartoceto brillano le stelle d'argento Loreto Basket si rilancia nel segno di Lorenzo Pizza Benvenuti al nostro telegiornale in questa prima edizione delle 19.40 in replica poi alle 20.40 sempre sul canale 80 del Digitale Terrestre. Apriamo questa edizione occupandoci degli ultimi sviluppi dell'omicidio per raccoltellamento avvenuto lunedì sera nel lungomare di Civitanova, il secondo delitto in dieci giorni nella città del Maceratese. È stato infatti arrestato il presunto colpevole dell'uccisione del trentenne tunisino Rachid Amri. Si tratterebbe del 27enne Saidi Aiteim, anche egli tunisino nonché parente della vittima. I carabinieri di Macerata lo hanno trovato in una casa di Porto Sant'Elpidio grazie alle indagini sulla base di testimonianze e valutazione di tabulati telefonici con immagini di videosorveglianza. Aiteim ha messo le proprie responsabilità su un omicidio alla cui base ci sarebbe una discussione degenerata su un debito di droga. A casa dell'arrestato sono state anche trovate 28 dosi di eroina pronte allo spaccio. Cambiamo completamente argomento e dedichiamo questo primo servizio di questa sera all'avvicinamento alle elezioni politiche del 25 settembre con le candidature che stanno emergendo del territorio verso la corsa al Parlamento. A 12 giorni dal termine della presentazione delle liste elettorali verso le elezioni politiche del 25 settembre lievitano i nuovi nomi papabili di candidatura a un Parlamento che ha spazi ridotti di elegibilità rispetto al passato. Salvo sorprese nel territorio di Pesorubino il Partito Democratico punta forte sulla deputata uscente Alessia Morani e sul consenso che accompagna il consigliere regionale Andrea Biancani. Si muove anche il centrodestra con Fratelli d'Italia che in attesa dell'ultima parola dei vertici regionali e nazionali del partito sembra aver scelto la rosa dei nomi candidabili da Pesorubino, l'ex sindaco di Piobbico Giorgio Mocchi, il pergolese Antonio Baldelli e i capigruppo di Pesorefano Daniele Malandrino e Lucia Tarsi. Possibilità che si intersecano ai nomi forti che arrivano da fuori provincia, Lucia Albano, l'assessore Guido Castelli, i consiglieri regionali Carlo Ciccioli e Elena Leonardi. Per la Lega il nome forte resta quello del vicepresidente della regione Mirko Carloni assieme all'assessora Giorgia Latini e al parlamentare Mauro Lucentini. Stefano Marchegiani sembra il nome su cui punta azione, ancora incerta la scelta del Movimento 5 Stelle dove pare plausibile la ricandidatura della senatrice fanese Rossella Cotto. Orgoglioso e onorato cercherò di meritarmi questo riconoscimento. Queste sono le parole del noto politico e diplomatico Gianni Letta che questa mattina ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Pesaro in una cerimonia tenutasi nel Salone Metaurense della Prefettura. Un riconoscimento fortemente voluto dal sindaco e vice sindaco Matteo Ricci e Daniele Vimini in seguito a quattro anni di grande contributo di Letta alla crescita culturale della città sfociata nella vittoria di Pesaro Capitale 2024. Quello con Letta fu un incontro che nacque per organizzare al meglio il 150esimo anniversario di Rossini, un connubio talmente ben riuscito che portò poi Letta ad essere nominato presidente della Fondazione Rossini, contribuendo anche a un'ulteriore crescita dei progetti del Conservatorio. Sono giorni che a Pesaro sta riscuotendo una grandissima curiosità il vecchio palasport di Viale dei Partigiani che è stato, come avete visto, liberato dalle impalcature. È una delle opere pubbliche che ha avuto un percorso più travagliato, come vi abbiamo raccontato in diverse occasioni del nostro telegiornale e probabilmente la fine dei lavori arriverà per il 2023. Nelle intenzioni doveva essere inaugurato per il Rossini Opera Festival del 2021 e invece si sono tolti i veli e parte superiore dell'impalcature solo alla vigilia del ROF 2022. Ora viene da chiedersi se il vecchio hangar di Viale dei Partigiani, futuro Auditorium Scavolini, sarà auspicabilmente pronto per il ROF 2023. Sì, secondo l'ennesimo aggiornamento di cronoprogramma, ma la realtà è che in tempi non sospetti di date si era ben guardato di darne il sindaco Matteo Ricci, riferendosi a un auditorium che dal 2015 in poi è deragliato in ogni declinazione di criticità, dagli adeguamenti sismici aggiuntivi ai costi lievitati fino alle problematiche con le ditte. Di certo, vederlo senza impalcature in questi giorni ha riacceso la curiosità sulla struttura, oltre a suscitare più di un commento su un impatto estetico che si auspicava di altra qualità. La curiosità viene anche alimentata dal fatto che il Comune ha pubblicato l'avviso d'affidamento dell'ultimo step di lavori. Quell'ultimo passo che è conseguenziale all'assegnazione di un altro milione di euro approvato recentemente dal Consiglio Comunale per completare un'opera passata dai 3,6 milioni di investimento del 2016, ai quasi 9 per la sua conclusione. Il Comune affiderà i lavori specificando la necessità inderogabile di avviare l'ultimo cantiere a novembre 2022 per puntare alla data presunta di chiusura di giugno 2023. Vedremo se la data sarà rispettata per un pacchetto di opere strutturali interne ancora corposo per consegnare alla città quella struttura da 2.000 posti attesa da anni. Ed ora spazio alle vostre segnalazioni come sempre, vi ringraziamo e vi richiediamo la vostra partecipazione ad essere cittadini attivi e segnalare tutte le cose che non vanno a questo numero 370-366-7210. Vi mostriamo oggi il video che ci ha inviato una residente pesarese di via Brandani, via in cui regna la cattiva abitudine degli scuteristi di crearsi una scorciatoia. in questa piccola area verde pubblica in cui, come si vede dalle immagini, si è creato il solco sul terreno ed è stato anche danneggiato il cemento divisorio fra la strada e il marciapiede. Il tutto per accorciare il percorso dalla cosiddetta zona Calcinari alla zona Pentagono Celletta. La nostra telespettatrice invita pertanto l'amministrazione comunale a pensare all'installazione di paletti o barriere divisorie per evitare questo pericoloso transito non consentito. Le Marche sono la prima regione ad essere stata autorizzata per tre anni dal Ministero della Transizione Ecologica all'immissione nei fiumi di 65 quintali di trote per attività sportive ed agonistiche. È quanto annunciato oggi a Pesaro il Vicepresidente della Regione Marche, Mirko Carloni, incontrando le associazioni di pesca sportiva marchigiana. Si tratta di un'autorizzazione che darà benefici alla pesca sportiva e all'indotto economico e turistico del territorio. L'immissione di trote riguarderà 12 tratti fluviali della Regione. In provincia di Pesaro Urbino saranno il Metauro, il Burano, il Bosso e il Mutino. Su quest'ultimo torrente è stata anche autorizzata alla creazione di un nuovo campo di gara. E passiamo agli appuntamenti. Questa sera il Teatro Rossini riapre le sue porte a Rossini Opera Festival con La Gazzetta, seconda opera in programma dopo l'apertura con le Comte Ori alla Vitre Frigo Arena appunto nella giornata di ieri. Arena nella quale il ROF torna domani 11 agosto alle ore 20 con la terza produzione di questa 43esima edizione del Festival. Si tratta dell'Hotello diretto da Isabelle con l'orchestra sinfonica della Rai. Hotel è un dramma per musica in tre atti rappresentato per la prima volta a Napoli nel 1816. Alla Vitre Frigo Arena verrà anche replicato il 14, il 17 e il 20 agosto. Grande attesa a Urbino per la tradizionale festa del Duca che quest'anno coincide con le celebrazioni del 600esimo anniversario della nascita del Duca Federico da Montefeltro. Si comincia domani 11 agosto alle ore 18 con la rievocazione inaugurale del grande corteo storico con 300 figuranti impegnati a far rivivere il trionfale ingresso in città del Duca nel luglio 1444. Seguirà alle ore 21 a Palazzo ducale il recital teatrale il ritorno del Duca interpretato da due grandissimi attori italiani Michele Placido e Alessandro Aber. Continuiamo con i tantissimi appuntamenti che come vedete ci sono nella nostra provincia di Pesaro Urbino. Ci spostiamo quindi da Urbino andiamo a Mondavio perché c'è un'altra spettacolare rievocazione storica quella della 61esima edizione della caccia al cinghiale. Una 61esima edizione che riprende dopo due anni di stop e qui va fatto un plauso a tutto il lavoro del gruppo storico. Dicevo due anni di stop e dopo due anni non è stato facile ripartire. Dico sempre che una rievocazione storica è una festa differente rispetto alle sagre, è una manifestazione che si svolge soprattutto in un periodo di ferie quindi c'è un grande sforzo da parte di tutti i volontari a cui va fatto il plauso. Quindi c'è stata una forte determinazione del gruppo storico e dell'associazione Prologo a ripartire. Ovviamente noi siamo stati fino ad oggi al loro fianco perché la principale manifestazione turistica del nostro borgo potesse ripartire. Sono tre giornate importanti, tre giornate di festa, 13 apriamo il sipario della rievocazione storica per fortuna dopo due anni di pandemia con il banchetto rinascimentale rigorosamente in costume d'epoca nel chiostro francescano a numero chiuso, quindi i primi 100 che pronoteranno avranno la possibilità di partecipare al nostro banchetto rinascimentale dove si mangeranno pietanze cucinate secondo antiche ricette, chiaramente rinascimentali, avranno modo di vivere una serata unica spogliati di tutto ciò che comporta il contemporaneo ma immersi nel vero fascino del rinascimento italiano. Nello stesso momento nel fossato della Rocca avrà luogo il bivacco, il bivacco è un luogo deputato a riposo dei soldati, a riposo del popolo, quindi un'atmosfera completamente differente, un accampamento militare, ci sarà un menù differente, quindi ricette cucinate secondo antiche, ricette popolane, agliettati i nostri ospiti sempre con saltimbanchi, giocoglieri e soprattutto i nostri armati con tiri con l'arco, la baleste e poi ci tengo a dirlo che avremo nelle vie del borgo il teatro di strada. Il teatro di strada cosa significa? Che i signori visitatori che verranno a Mondavio potranno immergersi nei vicoli del centro storico, entrare come protagonisti nelle pièce teatrali che verranno curate dal vice presidente del Calendimaggio di Assisi, Stefano Venarucci. Il 14 e 15 i cortei, il nostro grande corteo in onore del duca, della duchessa, la presa del possesso del vicariato di Mondavio, si uniranno a noi il corteo e la corte malatestiana di Gradara per il 14 agosto, mentre il 15 agosto il corteo del solenni ingresso di Senigallia. E poi infine il Suoni e luci, lo spettacolo Suoni e luci, il tanto atteso Suoni e luci che sarà quest'anno veramente diverso, diverso perché noi da tradizione per 60 anni abbiamo rappresentato sempre un mito, quest'anno per la prima volta rappresenteremo lo spettacolo che si chiamerà Io Giovanni, praticamente il mito sarà il duca. Il duca diventerà mitico attraverso lo spettacolo, noi abbiamo fatto tantissime ricerche da fonti, cronache, differenti, siamo riusciti a ricostruire l'intera vita con questo spettacolo multimediale perché noi attraverso diversi linguaggi, dal linguaggio artistico, teatrale, danza e chiaramente anche con proiezioni multimediali, metteremo in scena la vita di Giovanni della Rovere e finalmente lo conosceremo tutti. La caccia cigliare di Mondavio è una delle rivolcazioni storiche più importanti della nostra regione, 61esima edizione, quindi una grande storia alle spalle ma un grande futuro dovuto alla capacità della Proloco, della gestione di Silvi Campolucci, la Presidente, Laura, la Vicepresidente, il supporto dell'amministrazione comunale, quest'anno anche della Camera di Commercio delle Marche, con il Presidente Gino Sabatini e ovviamente Confcommercio che fa da spalla, da partner anche per alcune attività di comunicazione. Per Confcommercio è uno degli eventi più importanti dell'estate 2022 della provincia di Pesaro Rubino. E questa sera è la notte di San Lorenzo, tutti con il naso all'insù, soprattutto a Pesaro, Gabicce e Gradara per l'ottava edizione di Candele sotto le stelle. Ma a Cartocetto domani sera torna l'appuntamento con stelle d'argento che arricchisce un'estate davvero ricca di eventi per il Comune, come ci ha sottolineato il Sindaco Enrico Rossi. È un appuntamento che è ormai fisso, diciamo, accanto, vicino alla notte di San Lorenzo, che si ripete quest'anno per la terza edizione. Un'iniziativa che ha lo scopo di valorizzare il borgo storico, al tempo stesso sostenere quelle che sono le attività economiche che appunto vi insistono all'interno del borgo, che prende spunto dal cielo e dal manto stellato, quindi saremo lì tutti con il naso all'insù, lo sguardo rivolto verso il cielo, ma per godere poi della nostra buona tavola, dell'enogastronomia, della nostra tradizionalità, con tanti intrattenimenti e concerti musicali che saranno direttamente proposti nei locali. E quest'anno, oltre ad essere confermata la collaborazione con il Museo del Bali, perché ai partecipanti di stelle d'argento sarà riservato un biglietto ridotto e convenzionato proprio per godere dell'osservatorio, del planetario, delle tante altre attività, che è il Museo del Bali, che ricordiamo insomma essere lì praticamente attaccato al borgo storico di Cartoceto. Una piccola novità di quest'anno sarà l'autoraduno con oltre 50 auto d'epoca proposte dal club Lucio Ricci di Fanno. Quindi insomma un appuntamento sicuramente ottimo, atteso, che valorizza il borgo storico, come dicevo, e che sostiene anche le attività economiche. Credo che di questi tempi ce ne sia davvero bisogno. Questa è un'estate per tutte le marche di importante ripartenza turistica. Castelle d'argento a Cartoceto si inserisce dopo alcuni eventi importanti che hanno caratterizzato la vostra estate, ma poi ce ne saranno altri. Siamo partiti, siamo finalmente riusciti a tradurre nel concreto un progetto che voleva esportare la nostra DOP, che ricordiamo essere l'unica DOP per le aree di tutta la regione Marche, anche coinvolgendo gli altri territori dei comuni che fanno parte dello stesso areale della DOP Cartoceto, vale a dire Fanno, Colli al Metauro e Monbaroccio. Ci siamo riusciti con l'evento conterranea, questo tour itinerante, non soltanto di valorizzazione dell'olio, della DOP, non soltanto di valorizzazione delle nostre eccellenze no gastronomiche, ma anche di esaltazione di quelli che sono un po' gli asset e i percorsi turistici principali che caratterizzano questi territori della bassa vallata del Metauro. L'abbiamo fatto con tre cene spettacolo che si sono concluse lo scorso 9 luglio. Poi abbiamo avviato quest'anno un progetto nuovo invece, parchi d'estate, dopo tanti anni di Music Square che ha un po' concentrato delle serate di ottime, di grande musica live nella piazza principale di Lucrezia, in piazza Giovanni Paolo II. Quest'anno abbiamo deciso di tradurre quel tipo, di farla evolvere, quel tipo di manifestazione coinvolgendo e interessando un po' tutti i parchi della nostra frazione, la frazione di Lucrezia. Fortunatamente abbiamo a disposizione davvero tanti di questi luoghi di socialità, di aggregazione. Trovavamo corretto, ripeto, interessarli anche per più target, perché quelle che sono le iniziative contenute all'interno di parchi d'estate che è iniziato lo scorso 22 luglio e si concluderà il prossimo 10 di settembre tutti i venerdì, quindi l'ultimo venerdì sarà il 9 di settembre, poi più sabato 10, saranno previste, dicevo, tutta una serie di attività che vanno dalla musica al teatro, alla comicità, agli spettacoli per i bambini, quindi anche diversi e tanti target interessati. E poi ovviamente ce ne saranno anche degli altri progetti. E poi Marche Storie. Sì, Marche Storie invece che interesserà non più la frazione, ma ci spostiamo di nuovo nel capoluogo. Questo è il secondo anno che partecipiamo come comune a questa opportunità che la Regione Marche offre volendo valorizzare un po' l'identità, la storia e anche gli aneddoti di tutti i borghi storici. Quest'anno abbiamo partecipato con un nuovo progetto che parte un po' dal legame storico che vi è tra il borgo storico di Cartoceto e la città di Venezia, sicuramente molto impari come lotta e molto diversa come caratterizzazione, ovviamente sotto tanti punti di vista, ma il territorio di Cartoceto sin dall'epoca alto medievale era uno dei principali fornitori della Serenissima di Oglio, con cui appunto la città di Venezia illuminava le stanze del Doge e anche Piazza San Marco. Poi ovviamente si è evoluto il tutto, oggi non parliamo più di quel tipo di utilizzo, ma parliamo dell'unica DOP olearia della Regione Marche, come dicevo prima, però su questo aneddoto ci abbiamo costruito un progetto su questo rapporto storico con la città di Venezia e sarà un po' l'oggetto principale dello spettacolo appunto di Marche Storie dal prossimo 16 al 18 di settembre a Cartoceto. Oltre ovviamente a tante attività a corollario che arricchiranno ulteriormente il progetto di Marche Storie. Tra l'altro concludiamo poi l'estate invece con Trionfo Gourmet, che è un ulteriore progetto che riusciremo a realizzare grazie anche qui alla compartecipazione della Regione Marche, uno straordinario tour di tre serate, di cene gourmet appunto, ma all'interno del Teatro del Trionfo, ecco perché Trionfo du Gourmet, uno forse se non il solo teatro con questa unicità di tutta la Regione Marche, ne abbiamo tanti ed è vero ne abbiamo di meravigliosi, l'unicità e l'esclusività del Teatro del Trionfo di Cartoceto è che all'interno di questo stabile che sin dal 1700 era dedicato alla spremitura delle olive, quindi a Frantoio, oggi conserva soltanto il corpo ligno centrale e quindi in questa sua particolarità e per questa sua particolarità abbiamo anche deciso di organizzare queste serate, ottobre, dicembre e gennaio appunto all'interno del Teatro del Trionfo e anche queste saranno sicuramente agliettate da intrattenimenti musicali di grande qualità. Chiudo dicendo che in mezzo a tutta questa carrellata, non dimentichiamoci ovviamente, nelle prime due domeniche di novembre, il festival Cartoceto d'Op. C'è stata tanta curiosità per la conferenza stampa di questa mattina dedicata al Loreto Basket, storico club cittadino che rilancia enormemente le sue ambizioni con l'ingresso in società del presidente dell'Ital Service, Lorenzo Pizza. Ital Service ha supporto e in modo anche importante dell'ASD Loreto Basket. Prima domanda, quando avete avuto quest'idea e avete deciso di fare questo grande passo? Ma guarda, le cose si sono sviluppate molto velocemente, ci siamo incontrati per la prima volta, mi pare un mese fa e già dal primo incontro avevamo deciso perché, come abbiamo detto in conferenza stampa, abbiamo trovato una grande sinergia tra di noi, un grande intendimento e quindi ci è voluto pochissimo per arrivare a questo accordo dove Ital Service diventerà main sponsor dell'Oretto Basket, una società storica, una grande società. La bellezza di questo progetto è che partiamo dalle basi, si parte dalla base, dalla serie C, per cercare, come ho detto, di fare qualcosa di bello, di qualcosa di spettacoloso come abbiamo fatto nel Calcio A5. Chiaramente però il Calcio A5 rimane sempre vivo, anche perché sono tantissimi anche i ragazzi, i giovani, i bambini che partecipano a questo sport, quindi tutto quello che è stato fatto in questi anni da lei, presidente, chiaramente non andrà cancellato per il Calcio A5. Assolutamente sì, hai fatto bene a rimarcarlo, a sottolinearlo. Voglio tranquillizzare tutti i tifosi, tutte quelle famiglie, perché comunque noi vantiamo più di 200 tesserati tra bambini e under, che comunque ci scrivono e mi chiedono cosa fare al Calcio A5. Il Calcio A5 non verrà abbandonato, purtroppo sarà ridimensionato, ma non per volere nostro, ma per volere di una riforma assurda, che io reputo assurda, perché ha abbassato drasticamente il numero degli stranieri, quindi portando una non competitività delle squadre italiane in Europa. Però purtroppo, questo è, io ho detto, quando interviene la politica, quando intervengono certe mosse, noi possiamo fare poco, noi presidenti, possiamo solo prenderne atto, resettare e ricostruire le squadre in base alle nuove norme. Ci sarà un ridimensionamento, però il Calcio A5 rimarrà, rimarrà il settore giovanile, rimarranno gli investimenti, rimarranno gli allenatori e rimarrà una prima squadra comunque competitiva. E rimarrà anche l'amicizia con la VL, chiaramente la partecipazione dell'Ital Service a questa prima squadra pesarese. Assolutamente sì, l'abbiamo detto anche prima. L'amicizia con la VL è intoccabile, è qualcosa, un cardine fondamentale, l'amicizia con Ario Costa, l'amicizia con Luciano Amadori, con Fran Carceci. Tra l'altro sono molto contento perché oggi ho rivisto anche Alessandro Mingucci, che è venuto qui a presenziare questa conferenza stampa e mi ha fatto molto piacere. Rimarrà, rimarrà. Non entrerò in società, non entrerò nel consorzio, però aiuterò sempre la VL dall'esterno, come sponsor esterno e poi ho sempre detto a Dario, abbiamo sempre detto, ci sentiamo tutti i giorni, quindi qualsiasi consiglio, qualsiasi aiuto, qualsiasi cosa, noi siamo qui. Quindi non ci tiriamo indietro perché comunque la VL è sempre la prima squadra di basket della città ed è un prestigio per noi. Come si sente con l'ingresso di questo nuovo sponsor, appunto, Ital Service nella società? Siamo felicissimi di questo. Per me è quasi incredibile quello che sta succedendo nel giro di pochissimo tempo. Ho provato a dare un piccolo impulso e da un piccolo impulso sta venendo fuori una cosa che ci porta a una conferenza stampa come quella di oggi, quindi io sono super contento di questo. Ma non solo io, tanta altra gente ha già cominciato a tesserarsi, mi stanno spingendo a proseguire, eccetera, eccetera. Ecco, questo è il sentimento, diciamo, in questo momento. Raccontiamo quando nasce il Loreto Basket, un qualche accenno alla storia in breve, chiaramente. Il Loreto Basket nasce nel 1965 e sono stati anni, come dicevo prima, gloriosi perché hanno sfornato dei campioni che sono arrivati a livello nazionale, tutto nel giro di pochissimi anni. Io, diciamo, per età ho avuto la fortuna di partecipare quasi a tutta la storia del Loreto, ho perso solo qualcuno dei primi anni. 50 anni fa ero qui come allenatore del settore giovanile, dopodiché, diciamo, io ho perso un pochettino tutta l'altra fila, però il Loreto ha fatto finali di Coppa Italia, su questo campo si è disputato un play-off di Coppa Italia qui all'aperto. Quindi la storia è un po' questa, di giocatori che sono usciti da qui, giocando al play-ground, sono arrivati fino alla nazionale come Paolo Gurini e quello che vedo è che il basket è cambiato e sembrerebbe che oggi queste cose qui non vengono più fuori, per quello che c'è un po' questo spirito per ricreare un pochettino l'attaccamento un po' alle radici, ecco. E allora davvero complimenti a Lorenzo Pizza per questa nuova avventura. Intanto io vi auguro di passare una buonissima notte di San Lorenzo ed esprimere i desideri che più amate, nella speranza che si possano poi realizzare. Intanto però questa sera alle 21.20 vi mostriamo quella che è stata un'edizione magnifica di The Magic Castle a Gradara e alle 21.20 quindi vi aspettiamo per rivedere questo reportage. Mentre domani mattina torno con la rassegna stampa, vi aspetto chiaramente alle 7.20 in diretta sul canale 80 ma anche sulla nostra pagina Facebook. E vi ricordiamo di scaricare soprattutto per il periodo estivo la nostra applicazione in tantissimi, l'avete già scaricata e per questo vi ringraziamo. L'applicazione è gratuita, vi permette di guardare e di vedere le notizie del vostro territorio anche dall'altra parte del mondo, quindi nelle vostre vacanze vi sarà sicuramente utile. Grazie per averci seguito anche questa sera, ci vediamo domani con la rassegna stampa. Grazie.